Il momento direi che sta funzionando bene, quindi poi ci dirai perché sono curioso io, qui siamo tutti curiosi di che verticale si tratta, ok? Allora, ho capito che insomma la zona 9 con il caro Angelo Paolo vi ascoltate, quindi la parola va allo buone, non ci bello, il T9 CKW con i suoi 5 centimetri, prego. Non è 5, quindi si sembra, si è bravo, se ne si, è 15 o no, se ne si, è 15 o no, se ne si, non è 15, se ne si, non è 15, se ne si, non è 15, quindi quando dicevo che è bravo, lui si sembra 5, nel 5 ci sono pure, però queste qua che sono operanti, quindi si sembra. E' un po' di tempo, non posso pure mettere, non so che è una buona funzione.